Il Catania che verrà comincia a prendere forma ai nastri di partenza fine agosto, gli etnei si presenteranno profondamente rinnovati a partire dalla difesa che dopo la rescissione di Gile, l'addio di Bergamelli sarà ridisegnata con l'ingaggio anche di un difensore destro. Non solo difesa, la dirigenza etnea lavora anche a rinnovare il reparto offensivo e la mediana dove oltre all'odi arriverà una mezzala, la conferma di quest'ultima operazione nelle parole della D-Ross Azzurro, Pietro Lomonaco. L'odi a centrocampo si va ad unire ad altri giocatori che sono riconfermati, vedi Mazzarani, vedi Biagianti, vedi Da Silva che rientra dal Messina e ha fatto un grosso campionato, un altro innesto è addirittura d'arrivo, fermerà giorni, quindi centrocampo penso che proprio non abbiamo problematiche, le problematiche ce le abbiamo in altri ruoli. Sette o al massimo otto gli innesti in rosa, il mercato dipenderà molto, sottolinea Lomonaco, anche dalla riforma delle quote under ed over. Bisogna aspettare un attimino anche quelle che è la normativa della Lega Pro, perché probabilmente abbasseranno il numero degli over, se abbassano il numero degli over diventa inevitabile che si alza quello degli under, quindi bisogna puntare su giovani di buon livello. Noi abbiamo dei ragazzi interessanti, tipo Califa, tipo Di Stefano, che si sono fatti valere e hanno già esordito in prima squadra, tipo Graziano, tipo Rizzo, abbiamo diversi ragazzi interessanti, più qualche altro giovane che è già in organico come Di Grazia, come Barisic, Parisi, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo diversi giovani, altri ne prenderemo sicuramente, ma l'unica cosa certa è che noi ai nastri di partenza ci presenteremo con una squadra competitiva. E siamo alla panchina per Lucarelli in rosso-azzurro, manca solo la firma. A giorni le parti si rivedranno per mettere Neno su Bianco su un contratto biennale. Con l'ex bomber di Livorno e Parma ai piedi dell'Etna arriveranno anche l'ex difensore dell'Empoli, Vanighi, che supporterà Lucarelli nella preparazione della fase difensiva, e Alessandro Conticchio. Lo staff tecnico sarà completato da Marco Onorati, che come sempre si occuperà dei portieri. Sarà nuovo anche il preparatore atletico. In realtà si tratta di un ritorno in rosso-azzurro. La parte atletica della preparazione sarà infatti curata da Alberto Bartali, che ha lavorato con il Catania fino al dicembre del 2009.